Casa editrice veneziana che si occupa dal 1993 della pubblicazione dei libri, riviste e applicazioni per smartphone e tablet. Dal 2010 infatti, oltre alla editoria tradizionale dei libri e delle riviste, pubblichiamo anche le applicazioni per iOS di Apple e Android, di Google, soprattutto dedicate al turismo culturale nel territorio italiano e internazionale. Come libri, fin dal 1993 abbiamo aperto dei settori legati alla narrativa, ma anche alla saggistica, alla manualistica e alla storia del territorio. In questi ultimi anni ci siamo specializzati in alcune produzioni che consentono di scoprire il territorio attraverso i suoi esponenti culturali, in particolare gli scrittori. E così nel 2015 abbiamo pubblicato la prima edizione dei luoghi di Mario Rigoni Stern, che raccontano l'altopiano di Asiago attraverso le opere di Mario Rigoni Stern e accompagnano il lettore nei suoi percorsi attraverso le parole, non soltanto le parole dell'autore, ma anche attraverso la scoperta dei luoghi e delle loro specificità. Sulla scia di questa iniziativa, quest'anno stiamo presentando proprio qui al Salone del Libro di Torino i luoghi degli scrittori veneti, che invece è la scoperta del territorio veneto attraverso 30 dei suoi più famosi scrittori che comprendono sia autori storici, si va da Fogazzaro fino a Scarpa, Ongaro, Ervas e i più recenti. Questa linea è un progetto che noi vorremmo espandere nel resto del territorio nazionale, aiutando i nostri lettori a trovare le informazioni per la scoperta dei territori regionali attraverso le pagine e le parole degli scrittori che da questi territori sono nati.